Canova Tech Canova Tech è una società che si occupa di fornire servizi per la progettazione in ambito microelettronico quindi noi quello che facciamo è sostanzialmente progettare dei circuiti che vengono poi messi all'interno di microchip che insomma oggi sono un po' ovunque, telefoni cellulari, lettore mp3 noi ci occupiamo solo della progettazione, eventualmente della verifica mentre la parte poi di fabbricazione viene effettuata da grosse ditte che si chiamano fonderie che sono i fornitori di silicio la sede di questa società è sua Padova e qui a Savona da circa un anno e mezzo è stato aperto questo piccolo centro di progettazione per ora siamo in trenso, contiamo di crescere ancora, sempre qui a Savona il motivo qui di Savona del campus universitario è perché abbiamo una collaborazione con alcuni professori dell'università di Genova che hanno anche alcune attività qui a Savona e quindi essere qui vuol dire essere comunque diretto a contatto con queste persone e avere quindi la possibilità anche di fare un po' di attività di ricerca e sviluppo stiamo finanziando un dottorato di ricerca abbiamo fatto, contiamo insomma di avere anche qualche tesista insomma che può aiutarci magari a sviluppare alcune parti in ambito di ricerca che poi in un futuro potranno essere anche utilizzate in sviluppo e progettazione dei nostri microcircuiti